Giovanni, da quanto sei qui tu? Da 12 dicembre. E perché sei venuto qua? Perché io sono stato operato al cuore fino a ottobre. Ho fatto quasi tre mesi tra l'ospedale Villa Garda e operandomi urgentemente al cuore, la valvola mitralica, ho perso il lavoro, non mi hanno rinnovato, e in conseguenza quello della casa non mi dava più l'affitto. Giovanni ha 54 anni, ci racconta che dopo l'operazione al cuore è rimasto senza lavoro e senza casa. Qui nella struttura di accoglienza Cadinverno a Cadidavidi, in provincia di Verona, può trascorrere il periodo della sua convalescenza. L'edificio, messo a disposizione dal Comune di Verona, è gestito dalla Caritas Diocesana e dalla Pia Opera Ciccarelli. È stato aperto per la prima volta il 25 novembre 2019 ed è destinato a persone senza fissa dimora che hanno problemi di salute e che quindi non potrebbero stare in giro al freddo durante la giornata quando i dormitori normali sono chiusi. Gli ospiti arrivano nella struttura attraverso lo sportello unico che mette in rete i dormitori della città. Qui, accanto ai 14 uomini accolti, soprattutto stranieri, ci sono gli operatori sociosanitari, gli assistenti sociali e c'è la disponibilità di un infermiere. Cadinverno, come dice il nome, offre accoglienza in concomitanza con l'emergenza freddo, proprio per tutelare quelle persone che hanno una fragilità data da esigenze sanitarie particolari e rimarrà aperta fino al 31 marzo. Attualmente sono ancora a disposizione una decina di posti.